buongiorno a tutti ragazzi appena sveglia vi faccio vedere la stanza visto che non c'è nessuno io sono nell'albergo pallone che alla fine è uno tipo un ostello e la stanza è da 6 22 euro notte non è male colazione compresa ovviamente attaccato al centro abbastanza vicino anche alla stazione quindi ottimo spero che siate pronti per il video quindi andiamo subito fuori a dare un'occhiata alla bologna un pochino più nascosta e meno turistica buongiorno a tutti la stanza buongiorno a tutti ho Grazie per la visione! Dopo aver fatto il pieno con la focaccia ripiena che avete visto, bella unta peraltro, è il momento di salire perché è una bella giornata rispetto a ieri, quindi è il caso che io salga sulla Torre degli Asinelli così vi faccio vedere anche com'è la visera lassù. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sono finalmente tornata a casa, qui c'è la mia piccolina Morgan che non si vuol far vedere più di tanto, ma in ogni caso spero che il video vi sia piaciuto, spero che lo abbiate trovato interessante, vi ricordo che c'è un altro video su Bologna, se volete vederlo che è stato caricato la scorsa settimana. Io spero che vogliate lasciarmi un like, se avete qualche domanda da farmi potete lasciarla in un commento, vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social se volete seguirmi lì in diretta in modo tale da sapere quello che combino. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!